Satellite trasferito Cerverus nemico in arrivo I nemici hanno un uplink remoto Tropportatore del satellite è a terra Hanno il drone satellite È un pareggio, riposo Batterie Tempo di missione extra Portate il satellite alla stazione uplink Avviamo il drone satellite UAV alleato in arrivo Vi avete schiacciati Rifatelo nel prossimo round Tempo di missione prolungato Portate il drone satellite alla stazione uplink La nostra squadra ha il satellite Recuperate il drone satellite Hanno lasciato cadere il drone satellite Abbiamo il drone satellite Fanteria nemica Il CPP trionfa Condizioni di vittoria raggiunte Grazie 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 Grazie